Boulayet D.A. non era al Meri Rossi nemmeno per l'allenamento di questa mattina. Assenti anche Memochoa, il portiere messicano sarà a disposizione di Sosa da domani dopo aver assolto i suoi impegni con la nazionale del suo paese. Diverso il discorso per il bomber senegalese che è in Francia per motivi personali e che la serentana continua ad aspettare senza avere notizie precise circa il suo possibile rientro. Di sicuro D.A. salterà la gara col Torino in programma lunedì prossimo alle ore 18.30 allo stadio Arechi. Per il match con i piemontesi di Juric, avversari sempre molto ostici nel recente passato, la serentana potrebbe presentarsi con lovato Ghiomber e Pirola in difesa. Assintra Braderic, mentre a destra scalpita Mazzocchi. Cassanos potrebbe essere in ballottaggio con l'ex Venezia, ma costituire anche una credibile opzione in prima linea come uno dei due trequartisti alle spalle della punta centrale. Candreva è una certezza in questa posizione. Cabral potrebbe essere riproposto dall'inizio e partire da posizione più avanzata rispetto al match d'Ecce in cui fu schierato da esterno a tutta fascia. Butame di quei mesi potrebbero contendersi la maglia di prima punta per essere idealmente quel numero 9 che manca alla serentana nell'enumerazione stagionale. Per qualcuno quel 9 D.A. Per Sosa il senegalese resta in prima istanza un esterno con grandi capacità realizzative. Ma ora D.A. non c'è e al di là di questioni tattiche non solo bisognerà fare di necessità virtù. E tra i calciatori a disposizione di Sosa in prima linea c'è anche il ventenne Chaonà che a fisico, velocità, qualità e fame potrebbe essere una sorpresa durante la stagione e magari essere protagonista già col Torino. In mezzo al campo Legoschi e Lassana Koulibaly potrebbero giocare ancora insieme. Boinen potrebbe dare più geometrie e Martegani quel tocco di sfrontatezza che Sosa darà a combinare con un maggior ordine tattico. L'argentino nasce trequartista e dunque anche lui ha dalla sua quella d'utilità che lo rende automaticamente candidabile per più maglie e più ruoli. Ora però bisogna trovare la quadra in campo e fuori, presentarsi con un'idea di squadra che possa consolidarsi nel tempo per trovare continuità nelle prestazioni e nei risultati. Col Torino sarà un test importante e molto indicativo prima della seconda sfida interna di fila col Frosinone che potrebbe essere la vera prova del 9. Grazie a tutti.